E si chiude anche questa puntata Ahimè, si purtroppo è finita anche qui questa puntata Però ritorniamo con la prossima Eh si, vuole il tempo, vuole il tempo Quanto è passato a sto giro? Eh un'ora sempre, quella puntata è sempre quella dura E anche se vedi pure il tempo sta calando È diventato buio, siamo all'imbrunire Fortuna che le nostre telecamere sono belle luminose E quindi ti possono riprendere nel tuo splendore Detto questo ricordiamo che tu Sarai il nostro nuovo volto di Fanny Moon Affiancato insieme magari a Franceschina Che spero torni presto Arri ciao Francesca Arri ciao Francesca Bene, però prima di chiudere, di salutarci E vederci la prossima settimana Ricordiamo i nostri riferimenti Che sono? Allora, il numero di telefono è 333 33 86 93 E questa volta l'ho detto giusto? No, ci manca sempre un 3 Ci manca sempre un 3 Alla terza volta ci riuscirò Questo perché non siamo in 3 Manca la Franceschina Esatto, vedi, è per quello che ho sbagliato In sovraimpressione non vi potete sbagliare Quindi rileggiamolo assieme perché sta scritto qua 333 333 86 93 E ti sbaglia il secondo 3 E niente, eh Dici 33 Eh, dico 33 Voleva fare il dottore magari No Attore, non dottore Attore, attore Per adesso attore Magari è una prossima vita Quindi per adesso Se ti fanno fare l'attore dottore? Perché no? Perché no? Aspetta Più o meno quello Però quella è la trama di un porno maestro No, no, no Siamo in fascia protetta No, no, no In chiusura puntata si può dire tutto Vabbè, in chiusura puntata Bene, allora diciamo che con il numero di telefono potete contattarci se volete partecipare con noi in trasmissione Soprattutto se siete artisti, cantanti, ballerini di qualsiasi arte e volete esprimerla Ricordiamo che è totalmente gratuito Chiamateci e noi vi faremo fare una trasmissione dedicata a voi per far conoscere la vostra arte Non solo se avete un'attività commerciale e volete promuoverla potete sempre chiamarci Oppure se avete un evento da promuovere di qualsiasi genere Dall'arte, spettacolo, cucina, cultura e perché no anche viaggi Perché noi facciamo e faremo viaggi Potete chiamarci, esatto Su quel numero che vedete sempre in sovraimpressione Detto questo il tempo è tiranno La puntata sta finendo ma rimane l'ultimo riferimento che è È YouTube e Facebook Quindi mettete un like, condividete il canale Fanny Moon Bene, quindi non rimane che darci appuntamento alla prossima settimana E se ci avete perso guardateci online Ciao, sempre su questo canale Ciao meravigliosi Anni Moon